Prima è uscito fuoristrada con una punta nera, poi è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Un ragazzo di Barattili si trova ricoverato in prognese riservata all'ospedale San Martino di Oristano. L'incidente è avvenuto ieri notte nella provinciale che collega Barattili a Zediani. Prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco e 118. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri.